Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione targata iPhoneItalia.com della Power Bank 11200 mAh Si tratta di una batteria realizzata da Into Circuit che ci consente di ricaricare il nostro iPhone e il nostro iPad o due smartphone contemporaneamente La vediamo in questo video Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione della Power Bank PC 11200 mAh Si tratta di una batteria per il nostro smartphone o il nostro tablet o per entrambi Da utilizzare quando siamo all'esterno e non possiamo ricaricare il nostro iPhone o il nostro smartphone o il nostro tablet in condizioni di tranquillità interna La batteria viene fornita col classico cavetto USB, micro USB per la ricarica della stessa tramite il computer E con questa borsettina per il trasporto molto molto carina realizzata con materiali davvero belli al tatto E troviamo poi il classico foglietto di istruzioni per utilizzare al meglio la batteria Il Power Bank è molto grande, in questo caso è molto massiccio e pesante anche però appunto è molto capiente 11200 mAh sono davvero tanti La batteria si presenta anche con questo pulsante on off che ci consente di accenderla e spegnerla In più su questo display possiamo notare il livello, la percentuale di carica della batteria Che chiaramente andrà a calare quanto più ricaricheremo i nostri device Nella parte inferiore della batteria troviamo i due ingressi per la ricarica dei dispositivi Una USB, una micro USB per il ricaricamento della batteria stessa Poi il LED flash e poi il secondo ingresso per la batteria Il LED flash può essere attivato premendo due volte il tastino di accensione e rilasciandolo subito dopo Purtroppo la batteria non viene fornita con un cavetto lightning Quindi se avete un iPhone o un iPad dovrete necessariamente utilizzare il cavetto in dotazione Per la connessione dei dispositivi Una volta fatto questo basterà accendere la batteria per iniziare la ricarica dello smartphone o del tablet Come vi dicevo già più volte possiamo collegare fino a due dispositivi con cavetto USB E ricaricarli nello stesso momento Bene ragazzi quindi questa è la batteria da 11200 mAh di Intu Circuit Se siete interessati come al solito trovate i link in descrizione per l'acquisto e per la recensione completa Io sono Andrea Cervone vi ringrazio per aver guardato questo nuovo video e noi ci risentiamo alla prossima Ciao a tutti Ehi, clicca su di me se vuoi scoprire le migliori applicazioni per iPhone settimana dopo settimana Oppure clicca su di me se vuoi scoprire le ultime notizie sul mondo Apple e iPhone dell'ultima settimana Oppure clicca su di me per farmi una domanda sull'iPhone ma anche su qualsiasi altra cosa Oppure clicca su di me per scoprire tutti i segreti del mondo iPhone e i consigli per utilizzarlo al meglio E non dimenticare di iscriverti al canale se non l'hai già fatto